Abbatante di Eduardo de Biase, nascita Gennaro Sansone. La nonna stava sotto la nuvantina, l'attenzione non voleva tanta, una persona che arriva a stare vicino e i figli non aveva tanta. Tra se trinta casa una palossa, una femmina straniera, Tatiana, una nonna con un po' calda, tresta rossa, aveva un cuore la giornata santa. Non voleva a nessuna famiglia, solo un viaggio, ma un pomericino, sempre con due occhi rossi con madre e due zambaggioni ogni mattina. Sbarbata, linda e finta questa terra, una cammosella tutta un po' sumata, cravatta di marca, senza bastoncilla e la scarpatella sembalucità. Pareva lì tornato giovinotto, chiamiglie e vecchia tutto vicinato, ma che aveva vincito? Dovevo tenere un po' angolotto, diceva che aveva un po' scarpato. Tatiana, tutte le ore non ha fatto caldino. E la nonna, ebbene ce ne arriva tante, ma esso è ritornato in Ucraina. E' un po' non, sta guanon, un po' angolotto. E' un po' angolotto, chiamola. Grazie.